Una nuova e delicata indagine coinvolge direttamente Girgenti Acque e i massimi dirigenti di Idor Tecne. Sono state effettuate perquisizioni congiunte negli uffici di Girgenti Acque e Idor Tecne ad opera di carabiniere guarda di finanza dei rispettivi comandi provinciali su delega della procura della Repubblica di Agrigento. Le indagini sono a carico di almeno quattro indagati tra cui Marco Campione difeso all'avvocato Lillo Fiorello e Pietro Arnone difeso dal fratello Giuseppe Arnone. Gravi e numerosi i capi di imputazione contestati tra i quali l'associazione a delinquere, la corruzione, il falso in bilancio, l'inquinamento ambientale. Sono state sottoposte perquisizioni anche le abitazioni degli indagati. I provvedimenti sono a firma del procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio e del PUL costituito dai sostituti procuratori Salvatore Vella, Alessandra Russo e Paola Vetro. Intanto Girgenti Acque in relazione all'indagine avviata alla procura della Repubblica di Agrigento nei confronti della società manifesta la massima fiducia negli organi inquirenti e confida sulla celerità delle verifiche e degli accertamenti ritenuti necessari che possano diradare ogni ombra sulla gestione della società. La dirigenza di Girgenti Acque si legge in una nota e serena in quanto ritiene di aver agito sempre in buona fede e nel rispetto della legge in un settore alquanto complesso.